Straniero, fatti il segno della croce! Straniero, fatti il segno della croce! Presentato dalla Mila Cinematografica per la prima volta in Europa, Charles Southwood, nel ruolo di Frank il Giustiziere. Qui giace Charlie Logan, in attesa di vendetta. Alla ricerca della più spietata banda del Texas, Frank lo straniero è solo con la sua pistola contro la violenza e la crudeltà. Solo contro tutti. Una vicenda di odio, di amore e di vendetta. Straniero, fatti il segno della croce! Straniero, fatti il segno della croce! Straniero, fatti il segno della croce! Straniero, fatti! Straniero, fatti il segno della croce. Grazie a tutti.